Benvenuti a questo straordinario viaggio spirituale. Oggi esploreremo 9 segni chiari che rivelano la chiamata di Dio nella tua vita. Se hai mai sperimentato un desiderio profondo di giustizia, una coscienza che ti rimprovera quando sbagli o persino la perdita di amicizie a causa della tua fede, allora questo video è per te. Scopriremo insieme come questi segni possono rivelare la tua chiamata divina e come puoi abbracciare questa missione con coraggio e fiducia. Continua a guardare per un'ispirazione profonda e una guida per il tuo cammino spirituale. Numero 1. Fame insaziabile di giustizia, uno dei primi segni evidenti di essere chiamati da Dio e sviluppare una fame insaziabile per la giustizia. Questo significa che sentirai una profonda passione e desiderio per promuovere la giustizia, combattere l'ingiustizia e difendere i diritti degli oppressi. Sarai spinto a cercare la giustizia non solo per te stesso ma anche per gli altri. Questo desiderio ardente deriva dalla consapevolezza che Dio è un Dio di giustizia, e la tua chiamata è un richiamo a riflettere la sua natura in tutto ciò che fai. Numero 2. Convinzione interiore Quando Dio ti chiama, la tua coscienza diventerà sensibile all'errore. Ogni volta che compi un atto peccaminoso, la tua coscienza si risveglierà immediatamente, e proverai un senso di rammarico sincero. Questa convinzione interiore è una manifestazione dello Spirito di Dio che opera in te, guidandoti verso la retta via. Riconoscere i propri errori e pentirsene diventa parte integrante del tuo cammino spirituale. Numero 3. Perdita di amicizie Uno degli aspetti difficili della chiamata divina è la possibile perdita di amicizie. Non è insolito che le persone che erano una parte significativa della tua vita inizino a distanziarsi da te quando rispondi alla chiamata di Dio. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che vedono il cambiamento in te, la tua passione per le cose di Dio e le tue priorità in evoluzione. Tuttavia, la perdita di alcune amicizie può essere necessaria per consentire la crescita spirituale e per rimuovere gli ostacoli che impediscono il tuo servizio a Dio. Numero 4. Prove e tentazioni La chiamata di Dio comporta spesso un aumento delle prove e delle tentazioni nella tua vita. Questo non è un segno di abbandono da parte di Dio ma piuttosto un'opportunità per la tua fede di crescere. Le tentazioni possono includere sfide personali, relazionali o spirituali, e il diavolo cercherà di indebolirti. Tuttavia, Dio ti ha fornito la forza per superare queste prove e emergere più forte nella tua fede. Prima di continuare con il resto di questo video, voglio condividere un importante messaggio con te. Se stai apprezzando il contenuto che stai guardando e desideri rimanere aggiornato sulle prossime pubblicazioni, ti invito calorosamente ad iscriverti al nostro canale. Clicca sul pulsante di iscrizione qui sotto per non perdere nemmeno un episodio. Unisciti alla nostra comunità di iscritti devoti che condividono la tua passione per il nostro argomento. In questo modo, potrai essere parte attiva della nostra crescita e ricevere regolarmente contenuti che ispirano e arricchiscono. Grazie per il tuo supporto continuo e per essere qui con noi. Continua a guardare per scoprire ancora di più. Numero 5. Autorità spirituale. Quando Dio ti chiama, ti investirà di potere e autorità spirituale. Questa autorità non implica necessariamente il dominio sugli altri, ma si traduce in una capacità di influenzare positivamente le vite delle persone intorno a te. Potresti essere sorpreso dalle azioni audaci che intraprenderai sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. Sarai guidato dalla saggezza divine e potresti essere chiamato a compiere miracoli o a predicare la parola di Dio con forza. Numero 6. Persecuzione. La chiamata divina non è senza sfide. Molte persone potrebbero criticarti, giudicarti o addirittura minacciarti a causa del tuo impegno per Dio. Anche coloro che professano la stessa fede potrebbero reagire negativamente alla tua chiamata. Tuttavia, la persecuzione è una testimonianza della tua forza spirituale e della tua determinazione a seguire la volontà di Dio, anche quando è impopolare. Numero 7. Sogni e visioni. Dio può comunicarti la sua chiamata attraverso sogni e visioni. Potresti avere visioni di te stesso servire Dio in modi straordinari, come predicare a grandi folle o compiere miracoli. Questi sogni e visioni sono un segno tangibile della sua guida nella tua vita e possono fornirti la chiarezza sulla direzione che devi seguire. Numero 8. Odio per l'ingiustizia. La chiamata di Dio ti farà provare un profondo odio per l'ingiustizia. Sarai guidato da un forte senso di responsabilità nel combattere per la giustizia e nel difendere coloro che sono oppressi. Questo potrebbe comportare la tua partecipazione attiva nella lotta contro l'ingiustizia e il tuo impegno a proteggere i più vulnerabili. Numero 9. Consapevolezza di Dio, quando Dio ti chiama, diventerai costantemente consapevole della sua presenza nella tua vita. Questa consapevolezza ti porterà a prendere decisioni più sagge e a considerare costantemente come le tue azioni si allineino con la volontà di Dio. Le tue relazioni con gli altri saranno influenzate positivamente dalla tua ricerca di vivere secondo i principi divini di gentilezza, compassione e indulgenza. Ora una breve preghiera. Ti ringraziamo per questa opportunità di riflettere sulla tua chiamata nelle nostre vite e sui segni che tu poni di fronte a noi. Riconosciamo che la tua voce può parlare attraverso situazioni, emozioni e desideri profondi. Oggi, ti chiediamo di illuminare i nostri cuori e le nostre menti affinché possiamo riconoscere chiaramente i segni che hai posto davanti a noi. Concedici la saggezza di comprendere il tuo piano per le nostre vite e il coraggio di rispondere alla tua chiamata. Signore, aiutaci a sviluppare una fame insaziabile per la giustizia, a seguire la nostra coscienza quando sbagliamo e a difendere coloro che sono oppressi. Concedici la forza di affrontare le prove e le tentazioni che possiamo incontrare nel nostro cammino spirituale. Infondi in noi un senso di autorità spirituale per influenzare positivamente le vite degli altri e guidaci nella lotta contro l'ingiustizia ovunque la vediamo. Dacci la forza di sopportare la persecuzione, sapendo che la tua chiamata è più grande di qualsiasi ostacolo possiamo incontrare. Signore, se ci stai chiamando a servirti in modi straordinari, aprici alla tua guida attraverso sogni e visioni. Facci sentire il tuo odio per l'ingiustizia e la tua compassione per gli oppressi. Infine, aiutaci a rimanere costantemente consapevoli della tua presenza nelle nostre vite e nelle nostre decisioni. Ti preghiamo di continuare a guidarci e di darci la forza di seguire la tua chiamata con coraggio e fedeltà. In nome di Gesù Cristo, Amen. In conclusione, spero che questo video ti abbia aiutato a riflettere sulle possibili manifestazioni della chiamata divina nella tua vita. Ora voglio sentire la tua voce. Condividi nei commenti quale tra questi segni risuona di più con la tua esperienza personale. Ciò che condividi potrebbe ispirare e aiutare gli altri che stanno percorrendo lo stesso cammino spirituale. Inoltre, se non l'hai ancora fatto, ti invito caldamente a iscriverti al nostro canale. Qui troverai ulteriori discussioni ed esplorazioni su temi spirituali, ispirazione e saggezza. Clicca sul pulsante di iscrizione e attiva la campanella delle notifiche per essere sempre aggiornato sui nostri nuovi contenuti. La tua iscrizione è il tuo passaporto per un viaggio spirituale condiviso e arricchente. Grazie ancora per essere stato con noi in questo video. Restate connessi, continuate a cercare la vostra chiamata divina e ricordate che non siete soli in questo cammino. Insieme possiamo crescere e ispirarci a vicenda. Alla prossima!